Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Angela Rodizio, giornalista della tv pubblica spagnola TVE collegata con noi da Odessa, buonasera Serghi Orlov, vice sindaco di Mariupol, città in queste ore al centro della battaglia cruciale della guerra, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera e buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes, qui di giorno 49 della guerra in Ucraina con la battaglia di Mariupol che in furia i russi dicono di controllare il porto adesso e intanto il fronte occidentale mostra molte tensioni, subito dopo la pubblicità. Serghi Orlov Lei è vice sindaco di Mariupol, la città che è da settimane sotto assedio dei russi e dove si sta svolgendo la battaglia cruciale di questa guerra in Ucraina. I russi poco fa hanno detto che controllano il porto di Mariupol e che i miliziani di Azov sono ancora in città ma che sono circondati, cioè praticamente i russi dicono di avere vinto la battaglia per Mariupol. Ora lei ha lasciato la città quando esattamente e che cosa pensa di queste dichiarazioni del Cremlino, dei militari russi? Buonasera, la città di Mariupol ormai è assediato da molto tempo dei russi e ormai circa 40 giorni sono assediati e quasi tutti i giorni ascoltiamo, sentiamo dalla Russia che loro controllano la città. Tuttavia ormai il 49esimo giorno della guerra e 40 giorni della difesa di Mariupol e la città rimane ucraina e i militari ucraini la difendono. Dal punto di vista delle informazioni sul porto non lo confermiamo, non la confermiamo questa informazione, non è stato occupato completamente, è vero che la Russia ha occupato una buona parte della città, parliamo della parte orientale e del nord e anche nord-ovest della città, però al centro ci sono le battaglie, c'è la battaglia, il sud della città è controllato dalle nostre forze armate, il reggimento Azov e parzialmente le zone industriali sono sotto controllo delle nostre forze armate. Ma è vero che oggi si sono arresi oltre mille soldati ucraini alle truppe russe? Tutto questo non è vero, bisogna dire che i combattimenti sono in corso, nel corso dei combattimenti ci sono delle situazioni quando i militari, i difensori della nostra città sono feriti, possono essere presi come ostaggi, muoiono anche purtroppo, però questa informazione che possiamo dire ormai è un'informazione ufficiale, ieri c'è stata un'operazione speciale e le nostre due unità militari, quella della fanteria marina che si trovava al nord della città, il reggimento Azov si trova al sud della città, ieri in seguito a un'operazione speciale si sono riuniti e adesso la nostra fanteria non è più assediata, si sono unificati e di nuovo la brigata 36esima brigata. Orlov, ma chi è rimasto oggi ancora nella città di Mariupol? La popolazione civile è riuscita a fuggire, è riuscita ad allontanarsi dalla città come ha fatto lei? All'inizio della guerra circa 450.000 persone abitavano a Mariupol e prima della guerra, prima dell'assedio 100.000 hanno lasciato la città liberamente. Nel corso, a partire dall'assedio siamo riusciti con i corridoi di evacuazione, siamo riusciti a portare via sul territorio ucraino. 40.000 sono stati deportati però in diverse regioni della Russia, dunque 130.000 persone sono ancora rimaste nella città nelle condizioni terribili perché cercano di sopravvivere. E ha ragione, lei oggi, il presidente ucraino Zelensky ha detto che servono nuove armi se no sarà un bagno di sangue senza fine, è così? Confermo, confermo perché il reggimento Azov e anche le forze armate ucraine sono molto coraggiosi ma non hanno le armi a sufficienza per poter difendere dai bombardamenti della nostra città. Poi, tra l'altro, la metà dei bombardamenti è concentrata su Mariupol e viene bombardata anche dal mare. Abbiamo due o tre navi che si avvicinano a cinque chilometri a distanza dei Mariupol e con i missili cercano di distruggere la città, soprattutto la parte del porto e la zona attorno. Purtroppo non abbiamo le armi per poter abbattere queste armi, non abbiamo la possibilità di distruggere queste navi e dunque chiediamo a tutta la comunità internazionale di concederci queste armi. Vice sindaco, c'è Lucio Caracciolo che ha una domanda. Sì, sindaco, una domanda. Se noi decidessimo di mandare armi a Mariupol, potremmo farlo oppure ormai è impossibile armare i combattenti di Mariupol? No, non è tardi. Non è possibile ovviamente portare direttamente a Mariupol, ma non è un segreto. L'Ucraina sta pianificando di liberare, di sbloccare questo assedio e questa informazione viene confermata, l'informazione del Presidente. Noi abbiamo a sufficienza i soldati, abbiamo forze armate, abbiamo tante persone motivate, tanti soldati motivati e anche altre parti del reggimento Azov sono pronti a liberare la città, ma ci servono i carri armati e ci serve artiglieria e in questo modo possiamo liberare la città. Allora, vice sindaco Orlov, grazie di essere stato con noi e in bocca al lupo. Passo adesso Angela Rodizio, tu sei in questo momento a Odessa, hai raccontato tutte le guerre importanti degli ultimi 30 anni, da quelle in Iraq alla Bosnia, alla Siria. Intanto che cosa pensi di quello che ha detto il vice sindaco di Mariupol Orlov? Hai riscontrato anche tu, perché adesso ti stai spostando in tutta la zona, ecco naturalmente abbiamo, però forse ti riusciamo a sentirti Angela, e tu stai riscontrando questo forte entusiasmo dei soldati ucraini, che cosa c'è di diverso rispetto alle altre guerre che hai raccontato con questa guerra in Ucraina? Allora, qui oggi abbiamo sentito che ci sono state delle forze di unità speciali che erano spiegate a Mikolaev, che sarebbero arrivate a Mariupol oggi stesso. Quindi quello che ha detto il vice sindaco Orlov, secondo me può darsi che sia, che abbia una grande verità o se non abbiamo il riscontro, però può darsi, perché se queste forze speciali è vero che sono arrivate da Mariupol, scusatemi, da Mikolaev a Mariupol, vuol dire che c'è questa strada o questo modo di arrivare là, che diceva il vice sindaco. Da quello che dicevi, come sarebbe diversa questa situazione. Io ho coperto la dissoluzione della Unione Sovietica trent'anni fa, e quando penso a quell'entusiasmo che c'era di fare parte dell'Occidente, di rientrare un po' nella comunità internazionale dopo tutti quei anni che erano stati un po' isolati, questa è veramente una tragedia. Poi non ci scordiamo che anche in quella storia dell'Unione Sovietica, quindi 70 anni, quasi la metà da che è morto Stalin nel 1953 all'82, che è morto Vresniev, i due presidenti, sia Khrushchev sia Vresniev, erano ucraini. Quindi credo che questa sia una tragedia un po' della intrastoria, un fallimento collettivo anche iniziando da qui. Un fallimento collettivo, Marco Travaglio, è un fallimento collettivo che rischia di creare anche delle forti divisioni nella comunità occidentale dove c'è molto nervosismo, mettiamola così. Oggi il presidente americano Biden ha parlato di genocidio che vogliono commettere i russi contro gli ucraini, ovviamente il Cremlino ha reagito dicendo che sono parole inaccettabili, mentre il presidente francese Macron ha detto che bisogna stare attenti all'uso delle parole. A che cosa serve adesso questa escalation di Tony? Ricordiamo che l'ONU oggi ha dichiarato che per il momento non c'è nessuna possibilità di un cessate il fuoco. Mentre sul fronte orientale non si vede proprio niente di buono, direi che qualche barlume e qualche lumicino di speranza si apre sul fronte occidentale perché lentamente, meglio tardi che mai, la parte più avveduta e più libera dell'Unione Europea, quindi non i camerieri di Biden e di Johnson, ma quelli che hanno conservato un minimo di lucidità, cioè Macron e Scholz, stanno cominciando a rendersi conto e a renderlo anche pubblico che non si può da parte dell'Europa seguire in tutto e per tutto le richieste e le pretese di Biden e le richieste di Zelensky, perché Zelensky legittimamente ha le sue esigenze, gli americani legittimamente o meno fanno i loro sporchi interessi, ma l'Europa non ha gli stessi interessi degli americani. Perché gli americani insistono con questa escalation verbale? Perché devono supportare un escalation militare, non possono accettare che la guerra duri poco e che nasca una trattativa proficua e quindi la stanno sabotando in ogni modo. Da quando ha parlato Biden dal confine polacco si è desertificato il tavolo delle trattative, perché a loro interessa questo, ma ormai è chiaro, non ne fanno mistero, poi Biden non è particolarmente lucido, quindi lo confessa anche. Parlare di genocidio significa che con Putin non si tratta, Putin lo si butta giù e lo si processa. E se non si tratta con Putin con chi si tratta? Aspettiamo che arrivi qualcuno a buttarlo giù e metta su un altro, questo è il gioco che stanno facendo. Per fortuna, ed è la seconda volta, Macron ha messo uno stop. Dall'altra parte se l'Ucraina con tutte le armi che gli hanno mandato, i tedeschi, gli europei, gli inglesi e gli americani si permette addirittura di dire no al capo dello Stato tedesco, e beh la Germania oggi ha risposto irritata. Ci si sta rendendo finalmente conto del fatto che in questa guerra ci sono gli invasori, i russi, gli invasi, gli ucraini e ci sono anche un sacco di invasati. E per fortuna Scholz e Macron oggi hanno cominciato a spegnere un po' di teste calde. Speriamo che continuino. Lucio Caracciolo ci sono un sacco di invasati e quando Travaglio dice che gli europei e gli americani non hanno gli stessi interessi anche in questa drammatica e delicatissima fase è così e sbaglia Biden a parlare di genocidio? Beh allora le parole hanno un peso, la parola genocidio ha un peso, è legata particolarmente alla Shoah e infatti quando Zelensky è andato alla Knesset e ha creato una sorta di parallelo fra Ucraina e Israele, fra il destino degli ucraini e quello del popolo ebraico, la cosa lì non è stata presa bene. Io credo che bisogna restare sui dati di realtà, poi le parole si possono discutere ma comunque non si possono dire a babbera, questo credo che sia importante perché altrimenti se tutto è un genocidio, niente è un genocidio. Per quanto riguarda gli interessi americani e europei certamente sono diversi ma sono diversi anche gli interessi degli europei, non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, noi tutti abbiamo le stesse idee, non so se siano invasati ma certamente i popoli baltici, polacchi in particolare che hanno avuto dei rapporti diciamo particolari con la Russia, vedono questa come l'occasione di finirla una volta per tutte con la potenza russa. I tedeschi certamente no, i francesi nemmeno, neanche gli italiani certamente neanche gli spagnoli ma gli americani sì, almeno una parte dell'amministrazione Biden dice molto chiaramente questa storia deve finire con un cambio di regime, però finire con un cambio di regime può anche voler dire non finire quasi mai se non proprio mai e quindi io non mi stupirei se alla fine, spero presto, si arrivi comunque a un negoziato vero e che poi Zelensky stesso ha detto io sono pronto a parlare con Putin, quindi che poi alla fine i due protagonisti di questa tragedia possano arrivare a un compromesso che non sarà la pace ma che sarà comunque la fine di una fase particolarmente cruenta della guerra. Angela Rodizio, tu hai riscontrato da parte degli ucraini un desiderio intanto di avere subito una tregua e quando Caracciolo dice che ci sono anche tanti europei, non solo gli americani che vogliono farla finita con la Russia per sempre, sei d'accordo? È così la situazione? Io vi racconto, oggi siamo stati tutto il giorno qua a girare e ho trovato dove c'è la la statua di Isaac Babel, il famoso scrittore dei racconti d'Odessa e poi della Cavaleria Rosa, tutta quella storia, c'era questa coda di gente che aspettava del Donbass, che aspettava degli aiuti della Croce Rosa e quando abbiamo cercato di parlare con loro erano abbastanza presati e abbastanza stufi perché tanti di loro dicevano questo non doveva essere finita, questa storia non dovrebbe essere finita così, noi siamo in una situazione tragica, ci dovrebbe essere stata qualcosa che avesse impedito tutto questo, quindi c'è già un po' una svolta di gente che veramente la vuole fare finita, questa è una tragedia dentro la tragedia ed è veramente una storia presente delle persone che vogliono proprio arrivare a questo. Poi molto vicino c'è anche il posto dove Pushkin, il famoso Pushkin è stato esilato dall'Ozzarda, Alessandro I all'inizio dell'Ottocento e accanto proprio abbiamo trovato dei giovani che fanno degli uoti antiproiettili, quindi credo che veramente c'è una luce rosa di tutta questa storia, di tutta questa situazione che si svolge ma che veramente è una specie di spirale, di una tragedia, di una spirale storica che si deve proprio secondo tutte queste persone che abbiamo sentito trovare la vera svolta, in qualche modo, non è che possiamo andare a finirla così all'infinito. All'infinito, combattere feroci battaglie all'infinito. Beppe Severnini ora la connessione con te funziona di nuovo, dicevamo prima Marco Travaglio diceva che gli americani e gli europei non hanno gli stessi interessi, neanche in questa guerra in Ucraina e Caracciolo diceva sì, è anche all'interno della stessa Europa, ci sono i paesi, soprattutto quelli che appertenevano all'Unione Sovietica che sono diciamo molto, come possiamo dire, molto più anti-russi, esattamente, semplicemente sono completamente anti-russi e quindi secondo te il presidente americano Biden sta lavorando per allungare la guerra o per avere la pace? Perché in questo momento Angela Rodizio da lì ci dice che gli ucraini vorrebbero anche che ci fosse una tregua per poi finirla con questa spirale di guerra sempre più cruenta? Ma io non posso e non voglio credere che gli americani stiano lavorando per prolungare la guerra e trovo che anche dirlo è grave, stiamo parlando dei nostri alleati, è chiaro che possiamo dire a Biden che deve essere meno enfatico, sì, che certe parole oggi non aiutano possiamo dirglielo, ma questi sono i nostri alleati, a me dispiace, Marco ti sento dire, gli americani fanno i loro sporchi interessi, io non ti ho sentito usare lo stesso aggettivo per i russi e per Putin e allora cavolo se si potrebbe usare in quel caso, stiamo parlando dei nostri alleati, è chiaro che ci sono differenze, è chiaro che ci sono differenze fra noi e gli americani, ma ci sono anche molte cose che anche in questo momento ci stanno tenendo uniti, non vedo perché gli americani perché ci vendono un po' più di gas, forse dovrebbero prolungare la guerra che mette in difficoltà l'economia, che rende tutto più pericoloso, che li mette in difficoltà nel mondo, ma perché? È vero quello che avete detto che c'è una parte d'Europa che ha provato l'Unione Sovietica sulla pelle e questi paesi li ho frequentati parecchio, i Baltici, la Polonia e non solo, che sono molto più anti-russi perché l'han provato, però è anche vero che esiste una leadership, quella americana e a me sembra che considerata la situazione, l'Europa e gli Stati Uniti siano relativamente compatti, certo se ogni volta noi seguendo il manuale del piccolo complottista ci mettiamo a raccontare che gli americani vogliono prolungare la guerra ma non stanno in cielo né in terra, non è vero. Allora vorrei ricordare, ti do subito la parola Travaglio e poi anche Caracciolo e poi torniamo da Angela Rudizio, vorrei comunque ricordare che ci sono diciamo delle tensioni all'interno della compagine europea perché per esempio quando Zelensky si rifiuta di incontrare il presidente tedesco Steinmeier perché la Germania sarebbe troppo filorussa, diciamo che nella migliore delle ipotesi ha fatto una clamorosa gaffa istituzionale, un errore diplomatico, diciamo questo, possiamo dire almeno questo quando Zelensky si rifiuta di incontrare Steinmeier? L'interesse di Zelensky non è di dividere gli europei fra buoni e cattivi, quindi non so se sia una gaffa, penso che sia una scelta, anche perché non dimentichiamo che Steinmeier ha lasciato un brutto ricordo agli ucraini, almeno a quelli che sono con Zelensky che sono la grande maggioranza, lui nel 2014 tentò e anche riuscì da ministro degli esteri insieme al francese e il polacco che però remava dall'altra parte, fece un accordo fra Yanukovic e la piazza di Evromaidan che fu stracciato poi in poche ore dagli americani, in particolare dalla Nuland con il suo famoso fuck Europe, quindi per gli ucraini Steinmeier non è il presidente della Germania, è quello che ha provato a fregarli, almeno dal punto di vista di Zelensky. E poi forse c'è anche la vecchia storia che però è ancora attuale di Schröder, l'ex cancelliere che è pagato da anni da Gazprom. Però diciamo che dal punto di vista di chi deve quantomeno far finta che noi siamo uniti e mettere l'accento sulle divisioni non è utile, credo. Non è utile, non è utile neanche all'Ucraina. Marco Travaglio, oggi Svezia e Finlandia si sono praticamente dette pronte all'adesione alla Nato e il ministro degli esteri Di Maio in un'intervista alla CNN ha detto che questo è legittimo e che la Nato garantisce la sicurezza di tutti noi. Allora diceva prima Severnini che abbiamo una leadership che è quella americana e che... Forse ce l'ha lui, io non ho nessuna leadership, io faccio giornalista e non ho nessuna leadership, ragiono con la mia testa. E oggi ho letto questo titolo, non sul mio giornale, su Repubblica, che dice gas russo, gli USA minacciano le società europee che lo acquistano. Sono amici questi? A che titolo gli americani decidono da chi dobbiamo comprare il gas noi europei? A che titolo ci intimano di tagliarci le palle per fare un dispetto alla moglie? Ma di che stiamo parlando? Qui c'è una guerra che stanno combattendo gli americani da una parte, i russi dall'altra, gli europei sono in mezzo esattamente come gli ucraini che ci mettono i soldati e i morti. Questo è quello che sta succedendo e ciascuno fa i suoi sì sporchi interessi perché vogliono venderci il loro gas decrepito, inquinante, più costoso, perché vogliono prolungare la guerra fino a che Biden riesca a vincere le elezioni di mezzotermine, perché devono far dimenticare l'ignominiosa fuga dall'Afghanistan dell'autunno scorso e perché quando gli ricapita una guerra civile dentro l'Europa, una piaga purulenta che prosciugherà le risorse europee, quelle che avevamo messo da parte con il recovery e che ci costringerà giustamente perché siamo umani a ospitare milioni di profughi, non gli ricapita più un'occasione del genere per spaccare il mercato europeo dal mercato russo. Le guerre nascono e si sviluppano anche per ragioni economiche, lo studiavamo quando avevamo otto anni, adesso ne abbiamo, io ne ho 58, non so tu e forse non ci ha portati la cicogna, forse possiamo dire che la nostra grande leadership americana si sta facendo i suoi sporchi interessi come se li sta facendo Putin con la sua guerra criminale. Se poi fanno entrare nella Nato due paesi neutrali violano l'articolo 10 del trattato atlantico che dice che intanto i paesi per entrare nella Nato devono essere invitati e non si iscrivono come al club del tennis e che la Nato li può far entrare solo se contribuiscono alla sicurezza della regione dell'Atlantico settentrionale. in una situazione come questa secondo voi aumenta la sicurezza di tutta l'area inglobando altri due paesi nella Nato oppure pregiudica la sicurezza? Secondo me la pregiudica e infatti stanno buttando un altro cerino acceso nel pagliaio. Beppe Severnini, scusa ricordo solo che intanto la Russia di Putin è riuscita comunque in questa specie di miracolo di rafforzare l'Alleanza Atlantica tantissimo e di allargare l'Alleanza Atlantica e quindi diciamo questo è già una delle prime conseguenze di questa guerra lanciata dai russi in Ucraina. Beppe Severnini, scusa. Una cosa l'hai già detta tu, stavo dicendo, la Finlandia che ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire con la Russia nel 1939 e se esiste la Finlandia e non è una provincia russa è perché i finlandesi hanno resistito per cento giorni dal novembre del 39 al marzo del 1940. Ma tornando a Marco, Marco hai ragione non siamo più di primo pelo ma io davvero un concentrato di odio per l'America così non lo sentivo veramente da tanto tempo. Io non so quanto tu la conosci. Ma io non ho nessun odio, semplicemente sono europeo e non sono americano. Sia stato quanto tu sappia quello che tu stai dicendo, tu stai parlando di un nemico, quando invece questo paese con tutti i suoi difetti, con le sue ipocrisie... Dimmi una cosa che non è vera di quelle che ho detto invece di farmi la predica. Dimmi una cosa che ho detto che non sia vera invece di fare la predica con la bandierina. Tu vuoi parlare dell'America come se fosse il nemico dell'Europa e dell'Italia. È sbagliatissimo, Marco. Io dico quello che voglio e tu non hai nessuna autorità per dirmi quello che posso dire o quello che non posso dire. Dimostrami che ho detto qualcosa di falso. Ognuno esprime le sue opinioni, non c'è bisogno di diventare personali, di attacchi personali. Allora, adesso voglio sentire, prima Angela Rodizio, torniamo un attimo a Odessa. Voglio sapere che cosa pensi tu di questo dibattito. Tu conosci molto bene anche l'Italia. Avete un dibattito simile anche in Spagna. E secondo te che partita stanno giocando gli americani oggi in Ucraina e con la guerra in Ucraina? Se mi permetti, io voglio rientrare un po' e fare il follow-up di quello che sto sentendo. Quello che si vive qua è veramente una regressione storica. Perché quando uno va in giro e vede tutte queste trincee scavate, le viene in mente la prima guerra mondiale. Quindi la domanda sarebbe se ci possiamo permettere tutti quanti questa regressione storica. Oggi siamo stati nella stazione del treno qua a Odessa, abbiamo parlato con una giovane donna e ci viene anche in mente un altro scrittore che sarebbe Joseph Roth che anche lui era ucraino con la fuga senza fine, un'altra regressione dentro la regressione che sarebbe questa donna, Virpin, che era venuta qua a Odessa per scappare della guerra e adesso scappa da Odessa per andare da un'altra parte. Esatto, per andare un po' in tutti i posti. Io 30 anni fa ho conosciuto anche Putin, però sarebbe una storia molto lunga. Tanto vorrei finirla con un'altra riflessione. Perché in Russia tutte le guerre sono il preludio della rivoluzione. Quindi possiamo anche pensare a un'altra regressione ancora storica su questa rivoluzione dentro le guerre. Lucio Caracciolo? Eh sì, purtroppo noi stiamo vivendo un altro atto della prima guerra mondiale che non è mai finita. La disintegrazione dell'impero russo, la rinascita dei nazionalismi nello spazio imperiale russo, la nascita della nazione ucraina che praticamente Putin a questo punto ha battezzato, almeno per gran parte dell'Ucraina. Francamente non si vedono soluzioni a portata di mano. Perché la soluzione che vorrebbero gli americani, cioè appunto un cambio di regime, perché quando tu dici sei un criminale di guerra, sei un macellaio, non è che poi il giorno dopo ci vai a fare la pace. Almeno, non lo so, penso di no. È evidente. Allora questo che cosa significa? Significa che siamo in una fase che probabilmente durerà ancora parecchio, che sarà intervallata da delle tregue, ma non può essere questa una fase in cui si fa veramente la pace una soluzione. Poi l'ingresso della Finlandia cambia completamente l'assetto... L'ingresso della Finlandia nella NATO? Beh, insomma, Putin quando si affaccia alla finestra di casa di San Pietroburgo vede la NATO a questo punto, perché insomma il Golfo di Finlandia è quello che è. Quindi c'è poi un aspetto non secondario che riguarda, non abbiamo la carta, ma la ex clave russa di Kaliningrad, che è contenuta tra Polonia e Lituania. Adesso se entrano anche Svezia e Finlandia, anche diciamo sotto il profilo marittimo, tutta l'area del Baltico viene chiusa e quindi quella diventa un'area fortemente a rischio, perché lì i russi hanno concentrato assetti militari di primo livello e sono completamente circondati per terra e per mare. Quindi lì può succedere qualche cosa, speriamo di no, ma è un'area da tenere sotto controllo. Ecco sì, infatti adesso abbiamo una cartina. Insomma, notizie... È quell'area rossa appunto lì. Li facciamo vedere? Compresa tra Polonia e Lituania e il mare Baltico, che a questo punto è un mare NATO. Eh sì. Sì, quindi notizie tutt'altro che tranquillizzanti. La guerra in Ucraina ha ovviamente, comprensibilmente, tolto l'attenzione dalla pandemia, che come sapete non è finita. Oggi, per esempio, ci sono stati altri 155 morti e oltre 60 mila nuovi contagi. Sentite Paolo Pagliaro nel suo punto. Sì. Era venuto il momento di fare un bilancio della campagna vaccinale contro il Covid-19, la più grande operazione di sanità pubblica della storia recente. E questa mattina sono arrivati i dati, forniti da un'istituzione autorevole e attendibile, cioè l'Istituto Superiore di Sanità. Dunque, ora sappiamo che le vaccinazioni, iniziate il 27 dicembre 2020, hanno permesso di evitare 8 milioni di infezioni, oltre 500 mila ricoveri ospedalieri, 55 mila in terapia intensiva, ma soprattutto hanno evitato 150 mila morti. Il calcolo è stato fatto con una metodologia inizialmente sviluppata per i vaccini anti-influenzali, ma poi applicata anche in altri paesi per studi relativi al Covid. L'efficacia dei vaccini è stata proporzionale all'adesione degli italiani alla campagna. Al 31 gennaio scorso, l'84% dei cittadini risultava vaccinato con almeno una dose, l'80% con due dosi e il 47% con tre dosi. Ora si tratterebbe di convincere 4 milioni di persone a completare il ciclo, ma occorre soprattutto pianificare il prossimo richiamo adattato alle varianti del virus. In autunno la platea dovrebbe comprendere tutte le persone dai 50 anni in su, ma non è escluso che alla fine si decida di tornare a vaccinare tutti. È una decisione che verrà concordata a livello europeo. In alcune regioni è già iniziata la somministrazione della quarta dose a chi ha più di 80 anni o ha problemi di salute, ma finora l'adesione è stata molto bassa. Gianni Rezza, il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, parla di stanchezza vaccinale, normale, quando la percezione del rischio diminuisce. Ma se smettiamo di vaccinarci, il rischio aumenta. Siamo in chiusura. Grazie Angela Rudizio e buon lavoro. Grazie Marco Travaglio, grazie Beppe Severnini, grazie Lucio Caracciolo. E ricordo l'ultimo nuovo numero di Limes che si intitola La fine della pace. Siamo praticamente già una ristampa. Sempre per capire e sapere qualche cosa di più di questa drammatica guerra in Ucraina. e grazie spettatrici e spettatori. Io vi lascio Andrea Purgatorio al suo Atlantide dal titolo Affari e guerra, il sistema Putin. Quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani a 8 e mezzo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.